Era un fatto che intorno al 50 non c'era pace negli animi, anche l'atmosfera internazionale incrudeliva e non poteva non riflettersi ovunque. Sono parole tratte dal romanzo di Guido Seborga Gli Innocenti del 1961 che in maniera sintetica descrivono una situazione che è innegabile, la fabbrica negli anni di cui stiamo parlando, cioè all'inizio degli anni 50 occupava l'Ilva circa 4500 addetti tra operai e impiegati. Se calcoliamo anche l'indotto, ad esempio la fornicocca di Vado, cioè tutte quelle fabbriche che ruotavano intorno all'Ilva, si parla di una cifra che si aggira intorno ai 15.000 addetti. L'Ilva era veramente il perno dell'economia savonese. Da quando si era creata questa realtà industriale, Savona aveva avuto un incremento di popolazione che aveva portato da 40.000 a circa 70.000 abitanti. Questo ci dà la misura della vastità e dell'importanza del fenomeno che stiamo trattando. Alla fine della vicenda degli anni 50 che coinvolge la fabbrica si ha una riduzione praticamente a un terzo degli addetti, quindi da 4500 circa a 1500 complessivamente, che poi nelle vicende successive diminuiranno ulteriormente fino alla chiusura della fabbrica. La produzione savonese, gli impianti savonesi avevano partito anche strutturalmente gli effetti della guerra, c'erano stati dei danni. L'impostazione della siderurgia a Savona era ancora vecchio stile, era la cosiddetta siderurgia da rottame, cioè in sostanza si utilizzavano rottami di ferro per produrre l'acciaio, attraverso lo smantellamento delle navi che avevano finito il loro ciclo di navigazioni e recuperando materiale fondendolo negli alti forni. Ed era un sistema che era ormai obsoleto, stava andando alla produzione a ciclo integrale, quella che viene realizzata negli stabilimenti di Cornigliano, qui vicino, e anche altrove, come Bagnoli, Fiumicino, eccetera. Oltre a questo aggiungiamo i problemi che derivano dall'avviamento del cosiddetto piano Schumann. A questi problemi se ne aggiunge un altro, che è quello dell'ostilità dell'industria privata dell'acciaio, cui esponente di spicco era Falc, uno tra l'altro dei fondatori della democrazia cristiana, il partito di governo, nei confronti dell'industria partecipazione statale, in un momento in cui per le politiche deflazionistiche attuate dai governi nell'immediato dopo guerra, si era avuto un forte restringimento del credito nei confronti di queste industrie. A complicare ulteriormente il quadro, mettiamoci anche la spaccatura sul fronte sindacale dopo il 48, con la formazione della CISL e quindi con la creazione di uno spazio politico di intervento in quel mondo lì che prima non esisteva. Il problema dei licenziamenti all'ILVA si manifesta prestissimo, già nel 46-47. Io ho trovato un articolo in una pubblicazione che faceva capo, se non ricordo male la Camera di Commercio, in cui già si parla di uno possibile smantellamento totale della fabbrica e di un uso di quelle aree per scopi edilizi in sostanza, quello che poi è avvenuto molti decenni dopo. In pratica si propone la riduzione degli addetti di circa 2000 unità e la cosa crea ovviamente un forte sgomento in città, uno sgomento che coinvolge non solo i ceti operai ovviamente, ma coinvolge la città nel suo complesso perché si avvertiva chiaramente che un intervento così pesante non avrebbe, non potuto avere ricadute anche su tutta la realtà economica della zona, sul commercio, su tutte le attività collegate. La caratteristica di questa vicenda, di questi scioperi di questa lotta per l'Ilva, è stata non moltissimo studiata, come in generale non è stata studiata la stagione di questi cosiddetti scioperi alla rovescia, che consistevano in sostanza nel tentativo da parte del padronato o della proprietà di ridurre o chiudere addirittura gli impianti industriali, quindi con la serrata nei momenti di confronto e di tensione e con l'azione invece degli operai, della manodopera organizzata che occupava la fabbrica e la faceva continuare a produrre nonostante la volontà di chiuderla. Quindi non uno sciopero che si configura come semplice stensione del lavoro, ma un'occupazione materiale degli spazi della produzione e una gestione autonoma degli stessi. Sono anni in cui vengono varate anche delle norme di polizia per contenere le forme di manifestazione, sono anni in cui scorre anche del sangue, non a Savona fortunatamente, qualche scontro ci fu, ma non ci scappò il morto, però altrove sì. In questa primissima fase la situazione viene parzialmente risolta al tavolo della trattativa. Nel frattempo in città si attiva un comitato civico che fa capo al sindaco, Aglietto, che raccoglie veramente tutte le categorie. Quello che fa più impressione in questa vicenda è proprio vedere la solidarietà civica che si stringe intorno a questa fabbrica. Gli operai nella loro lotta e le loro organizzazioni sono riusciti veramente a coagulare per un po' di anni intorno alle loro ragioni tutta la città. Manifestazioni impressionanti di solidarietà. Le famiglie, i privati raccoglievano in città rottami di ferro per farli confluire nella fabbrica e per consentire ancora la lavorazione. Gli operai in fabbrica avevano rimontato uno dei forni che erano crollati durante la guerra. Gli albergatori, alcuni albergatori almeno, avevano offerto gratuitamente delle camere per le famiglie degli operai. Si raccoglievano fondi, persino il clero locale. Si attivò per sostenere economicamente, diciamo così, la lotta. Anche formazioni politiche che sembravano molto distanti dalle ragioni del mondo operaio, come il partito liberale, nella figura di Silvio Volta manifestò solidarietà a questa lotta. E tramite questo comitato, tramite l'azione degli amministratori locali, si sollecitarono incontri ad alto livello con ministri, con De Gasperi, eccetera. Ma alla fine la vicenda si risolse semplicemente in quel breve torno di anni, cioè 50-51, con un leggero ritocco al ribasso della quota di licenziamento. Pochi mesi dopo ci fu un'ispezione della polizia dentro gli stabilimenti. Recuperarono, a loro dire, delle armi, fucili, mitragliatori, nascosti da qualche parte nei numerosi di Anfratti, che un grande stabilimento come quello poteva offrire, a volte in giornali del 48, un anno abbastanza caldo per la storia italiana, che vennero messi in prima pagina, almeno sulle pagine locali dei quotidiani. Insomma, si rianimò un po' di ostilità da parte moderata nei confronti di quel mondo e di quelle ragioni. Dopo la ripresa di queste occupazioni, di questi scioperi, che chiaramente cominciavano un po' a stancare anche il ceto medio e la borghesia locale, si fece la promessa, in sostanza, di convertire professionalmente questi operai, in parte di destinarli ad altre realtà industriali, e in parte di riconvertirli attraverso dei corsi di formazione professionale che avrebbero consentito loro l'accesso ad altre aree, in più il varo di lavori pubblici e di altre soluzioni che avrebbero alleggerito la faccenda. Però facevano la figura, gli occhi, diciamo, dei benpensanti del ceto medio, dell'opinione pubblica locale, già un po' la figura di parassiti che stavano lì, che frequentavano questi corsi e non facevano nulla. Anche perché di fatto questi corsi non portarono a nulla. E addirittura vennero conclusi senza che venisse rilasciato ai partecipanti un attestato di qualificazione. li tennero lì a Bagnomaria per un po' di mesi, si spense completamente il rapporto di solidarietà con la città e così la vicenda dell'Ilva, nella sua fase cruciale, che va dal 50 al 55, come dire, si concluse. Il romanzo di Guido Seborga, Gli Innocenti, è del 1961. È un anno capitale anche per le vicende dell'Ilva perché nel 61 si realizza, diciamo, la fusione dell'Ilva con la Cornigliano che dà vita a Little Cedar. È un anno in cui quindi la vicenda è già trascorsa e quindi viene vista in retrospettiva. Non è strano vedere un artista coinvolto nelle vicende dell'Ilva, anche se un po' tardivamente rispetto alla fase acuta. Gli operai riuscirono a coagulare intorno alla loro lotta anche la presenza e l'opera di molti artisti. Caso molto noto è quello, ad esempio, di Lizzani che realizza un film, Mark Tumbanditen, usando le maestranze di una fabbrica di sestri che stava facendo una lotta analoga a quella dell'Ilva. Un artista come il futurista Farfa, che uno potrebbe immaginare lontanissimo da questo orizzonte, proprio in sostegno alle lotte operaie, realizza un'opera lirica intitolata Binario. I binari si producevano proprio nella fabbrica di Savona. Gli operai dell'Ilva partecipano attivamente all'organizzazione e all'allestimento del premio Vado, che è un'importante realtà di quegli anni. Per recuperare in immagine Little Cedar, ormai divenuta tale, commissionò ad artisti, scrittori come Betocchi, eccetera, scritti e anche opere, posaceneri di acciaio smaltati e decorati e cose di questo genere, grafica, eccetera, che caratterizzano appunto gli anni successivi. Esiste anche un testo di Calvino molto noto, di Italo Calvino, che parla dell'Ital Cedar, che appare proprio sulla rivista dell'Ital Cedar, che parla proprio dello stabilimento di Savona. Il romanzo di Seborga venne scritto dal 1955 al 1959, quindi quando la vicenda è già chiusa, sta chiudendosi perlomeno e ci si avvia ad un'altra fase. È una vicenda invernale, l'inverno domina, il freddo domina, il paesaggio è quello di Savona d'inverno in sostanza. Anche questo è giustificato sostanzialmente dalla poetica dell'autore, dal pessimismo di fondo che anima questa vicenda, che è espresso da un avverbio che chiude una parte rilevante del romanzo, ineluttabilmente. Tutte le vicende degli operai, la loro lotta è stata una lotta inutile, tutto sommato. I destini si sono incamminati nella direzione obbligata, ma forse in ogni caso questo messaggio esce dal romanzo di Seborga che è dell'aspetto civilmente più significativo, quella lotta era comunque necessaria. Era comunque necessaria ed era l'unica forma di riscatto che dà senso a quella che uno scrittore dell'epoca, Navelle, chiamava la tristezza operaia. Grazie.